succo evolutivo chi l'avrebbe mai detto al tempo dei grandi discorsi e dei riflettori al tempo della sua apoteosi dopo un mese dalla sua morte hanno rovesciato anche la sua memoria quella mattina la sua statua stava bianca ed enorme in mezzo al giardino dello scultore era quasi finita arrivarono tre manovali con le subie e le mazze i loro cappelli di carta e presero la statua ammazzate la testa crollò con un tonfo sull'erba gli scalpelli sfreggiarono il volto e spensero gli occhi un documento venne firmato e fu tutto commento si può rovesciare la memoria di chiunque chi non ha una visione trascendente della vita grida allo scandalo come se la vita di un personaggio di uno sconosciuto avesse un valore oggettivo e potesse essere valutata come giusta o ingiusta invece la vita di ognuno per il fatto stesso che è stata vissuta ha già adempiuto il suo compito che è quello di evolvere l'individuo i maestri immateriali ripetono che non esiste una vita infima o eccellente ma solo il succo evolutivo che l'individuo sa trarre dalla sua vita 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 Grazie a tutti.